Come depurare i polmoni? Abbiamo queste due sacche importantissime, fondamentali, chiamate i polmoni che si caricano di ossigeno. Noi andiamo a ispirare grazie al naso e a ispirare grazie alla bocca. Riusciamo a caricare un sacco di ossigeno all'interno dei polmoni che si caricano di ossigeno per poi rilasciare subito l'ossigeno attraverso la bocca che si deve chiamare però anidride carbonica in maniera corretta. Come depurare i polmoni? Due regole fondamentali. La prima, esercizio fisico, muoviti, corri, compi sport, fai attività all'aria aperta, prediligi il contatto con la natura, corri, footing, ripeto, sport, sport per esempio nuoto, calcio, palestra, aerobica, balla a burro, balla a canestro, sport, sport, fai sport. Fai attività fisica. In questo modo andrai a migliorare la tua respirazione, a depurare i tuoi polmoni. Seconda ed ultima regola, se stai a casa, utilizza piante da appartamento. Questo che significa compri i potosi. I potosi è una pianta che viene messa in appartamento che va a depurare gli ambienti in quanto è una pianta sempre verde. Bene, queste le due regole principali secondo me, io non sono un medico e bene me ne guardo dall'esserlo. Vi ringrazio, iscrivetevi, commentate e un saluto da Reandro, un narratore italiano.